Il 20 dicembre è stato pubblicato l'avviso pubblico che riguarda il progetto di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di prevenzione. Sono ammessi al finanziamento tre tipologie di progetto, i progetti propriamente di investimento, i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e i progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro, quelle messe in servizio prima del 1996. Questo nuovo asse di progetti è finanziato con le risorse del Ministero del Lavoro. Abbiamo convocato la conferenza oggi per segnare il fatto che da oggi le imprese possono arrivare, avviare il processo assistito che possa portare al finanziamento. È stato detto, lo ripeto, questo è il quarto bando, l'INAIL segue con molta attenzione questo tipo di attività e anche con profusione di impegno finanziario. Un impegno finanziario che ha seguito un trend crescente. Nel 2010 sono stati stanziati 60 milioni, nel 2011 205, nel 2012 155, quest'anno 307, 295 direttamente dall'INAIL, 12 milioni del Ministero del Lavoro. Molte innovazioni sono state introdotte per rendere più efficace la partecipazione e poi l'arrivo al finanziamento. Ne sintetizzo cinque che secondo me segnalano le migliori novità. Allora intanto il contributo in conto capitale erogato dall'INAIL è stato portato al 65% dei costi di progetto con un limite massimo di finanziamento concedibile elevato a 130 mila euro. Lo scorso anno il massimo era di 100 mila euro e la percentuale di contribuzione era del 50%. Quindi quest'anno i 307 milioni di euro stanziati potenzialmente possono muovere un investimento di almeno 473 milioni. La seconda innovazione riguarda il finanziamento che viene dal Ministero del Lavoro. Con questo finanziamento verrà sostenuta una nuova tipologia di progetti finalizzati, lo accennavo prima, alla sostituzione all'adeguamento di attrezzature di lavoro messe in uso prima del 1996. La terza novità è una novità che vogliamo segnalare con forza, ne abbiamo ragionato anche col Signor Ministro. Nel bando è segnalato che il finanziamento dell'INAIL è cumulabile con altri benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito alle imprese, quali quelli, per esempio, gestiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese da Ismea. In particolare ci si riferisce al plafond piccole e medie imprese sul quale la Cassa Depositi e Prestiti eroga alle banche provvista di scopo, a medio e lungo termine, a condizioni di mercato calmierate. Quindi già questo tipo di raccolta produce effetti benefici sul tasso di debito delle imprese. Ma inoltre il ricorso al Fondo di Garanzia migliora ancora per le imprese le condizioni di accesso al credito. Questa novità per noi è particolarmente rilevante perché intanto agevola il rapporto fra imprese e banche, ma poi soprattutto segnala lo sforzo che è stato fatto per creare sinergia fra istituzioni che concorrono alla stessa finalità di promozione. Il quarto punto riguarda le semplificazioni procedurali. C'è stata la prologa di sei mesi per la realizzazione dei progetti, proroga che può essere concessa su motivata richiesta dell'azienda. In sede di istruttori è prevista l'integrazione di documenti o la richiesta di chiarimenti. Sono stati eliminati termini perentori e di decadenza. Insomma, il processo è stato il più possibile, ovviamente sempre nel rispetto delle norme, agevolato. Da oggi le imprese, abbiamo detto, possono avviare il processo che potrà portare al finanziamento. All'inizio si parlava di processo assistito. Significa che vogliamo sottolineare che l'INE ha organizzato un sistema di assistenza alle imprese che copre tutte le fasi che possano andare da oggi fino all'eventuale concessione del finanziamento. Come si partecipa a questa richiesta di incentivi? Intanto la procedura valutativa è organizzata a Sportello, quindi ci sarà l'assegnazione con il criterio cronologico, con l'evento del Click Day. L'inserimento online della domanda può avvenire da oggi fino all'8 aprile e potranno essere in questo periodo fatte le verifiche sul raggiungimento della soglia minima per essere ammessi alla prosecuzione della procedura. Dal 10 aprile le imprese ammesse riceveranno il loro codice identificativo. Nel mese di aprile l'INEL comunicherà le date del Click Day che saranno magari scadenzate e suddivise per ambiti territoriali. Ci saranno poi 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Il termine è prorogabile per non più di sei mesi su richiesta motivata dell'impresa e questa è l'altra novità. A seguito dell'esito delle verifiche che dovranno essere completate entro 90 giorni da ricevimento della documentazione, l'INEL potrà erogare il contributo. Con questo credo di aver sintetizzato lo spirito dell'iniziativa. Ma sul logo della nostra pubblicità vedete ci sono due salvatanai. Noi adesso abbiamo parlato di quello rosso, due parole su quello verde. Accanto al progetto ISI c'è anche l'attività che riguarda la riduzione del premio, quella che noi chiamiamo sconto sui premi per azione di prevenzione che nel gergo corrisponde alla sigla OT24. È uno sconto cui le imprese possono avere accesso. Voglio segnalare un fatto. Dal 2009 al 2012 questo tipo di incentivazione ha prodotto per le imprese un risparmio di più di 850 milioni con un trend assolutamente crescente perché per l'anno 2009 abbiamo avuto un risparmio sui premi di 134 milioni e siamo arrivati l'anno scorso a 300 milioni. Quindi anche questo tipo di contribuzione incentivante credo sia molto utile per le imprese. Un'ultima segnalazione sempre per tornare al nostro logo pubblicitario è importante che tutti si sia convinti e che tutti noi si possa ripetere che la sicurezza pesa sempre di più ed è molto conveniente quindi non è un costo investire in sicurezza ma può portare grandi benefici non soltanto ovviamente in termini di minori infortuni o di minori malattie professionali ma anche in termini di produttività di tutela della qualità dei prodotti. Grazie al Presidente De Felice e direi grazie all'INAIL per l'impegno profuso in questo risultato importante che è uno degli interventi che sono stati fatti in questi mesi sul tema e io vorrei cogliere proprio questa occasione per mettere insieme le tessere di questo puzzle che hanno consistentemente e coerentemente dimostrato l'interesse e l'importanza dell'impegno del Governo in questo tema sulla salute e la sicurezza dei lavoratori perché dobbiamo dircelo che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono altrettanto importanti quanto il fatto di avere un lavoro perché avere un lavoro che mette a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone non è sufficiente. E allora vorrei ricordare che questo impegno all'aumento da un lato naturalmente dell'occupazione ma anche alla tutela e rafforzamento degli interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro sono state le due gambe su cui in questi mesi sono stati adottati molti provvedimenti che forse non sono appunto nell'immaginario collettivo completamente compresi come una strategia di medio termine vorrei ricordarli e vorrei ricordare che poi fare leggi ma poi e anche mettere fondi a disposizione non è sufficiente per riuscire veramente a cambiare le cose per questo il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi con l'Inail è stato anche nell'attuazione non solo nella legificazione o nella messa a disposizione di fondi con il decreto 76 di giugno abbiamo aumentato le sanzioni per le violazioni delle regole sulla sicurezza sul lavoro abbiamo inoltre chiarito che le regole per la tutela della sicurezza si applicano a tutti indipendentemente dal tipo di contratto che lega la persona all'impresa quindi non è solo il lavoro subordinato ma le imprese devono tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno a che fare con l'impresa anche i parasubordinati abbiamo poi deciso nel corso della discussione della legge finanziaria della legge di stabilità chiedo scusa di concentrare un miliardo su un miliardo e mezzo complessivo di riduzione del cuneo fiscale lato imprese alla riduzione dei premi INAIL selettiva cioè soprattutto a favore di quelle imprese che rispettano le regole e che investono in sicurezza e che grazie a questi investimenti hanno tassi di rischio più bassi non era facile prendere una decisione del genere ed è una decisione che comporta un impegno organizzativo su cui stiamo lavorando appunto proprio in queste ore con l'INAIL ma il messaggio è chiaro come tu smetti di investire in sicurezza passi a una classe di rischio superiore e quindi anche la riduzione del costo del lavoro sarà minore questo è un modo per fare competitività riducendo il costo del lavoro ma anche fare una forte pressione sulle imprese passando anche un messaggio culturale che lo Stato il settore pubblico incentiva giustamente le imprese evitando costi eccessivi ma lo fa in modo selettivo perché come ho detto prima l'obiettivo della tutela del lavoratore è altrettanto importante quanto l'avere un risultato economico importante abbiamo poi sempre nella legge di stabilità ripristinato l'indicizzazione per gli indenizi di danno biologico che da vari anni erano fermi e poi vorrei ricordare che con il decreto del fare abbiamo previsto semplificazioni per i settori a basso rischio in questi mesi Ministero del Lavoro INAIL ma anche le parti sociali hanno lavorato intensamente per predisporre questi decreti che ormai sono in dirittura d'arrivo per ridurre appunto gli oneri burocratici nei settori a basso rischio senza concedere nulla al rilassare i termini degli obblighi sulla sicurezza oggi un altro tassello si aggiunge a quelli che ho appena citato non è nuovo apparentemente ma è profondamente rinnovato non solo perché dal punto di vista degli importi è un importo che è doppio rispetto a quello che era previsto l'anno scorso e in questi momenti di finanza pubblica difficili che restano ancora difficili vuol dire che noi investiamo in questo ripeto raddoppiando la cifra ma poi perché le nuove forme con cui questi incentivi vengono erogati tengono conto dei problemi che sono stati evidenziati l'anno scorso fase ciclica molto difficile fase nel quale il credit crunch ha ridotto il credito disponibile per le imprese e quindi molti dei progetti che inizialmente erano stati in qualche modo sottoposti dalle imprese poi non erano realizzabili perché mancavano i finanziamenti per la quota di contribuzione delle imprese per fare quell'attività e quindi nei mesi scorsi insieme al presidente De Felice insieme al direttore generale Lucibello insieme a Lineal ma non solo abbiamo in modo direi molto dettagliato riflettuto su come superare questi ostacoli e uno dei risultati lo ha ricordato prima il presidente De Felice è quello che il credito che le imprese chiederanno alle banche per finanziare questi progetti avrà il beneficio delle agevolazioni e della riduzione del costo grazie appunto al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che a questo punto riesce a dare quella certezza alle banche che vogliono prestare alle imprese fondi per effettuare questi investimenti che prima non c'era come vedete quindi non è semplicemente l'annuncio di un qualcosa che già esisteva ma è veramente un insieme di novità importanti perché come si dice il diavolo sta nei dettagli e noi siamo entrati nei dettagli considerando la particolare fase congiunturale in cui questo paese si trova perché faccio questo riferimento perché i dati di ieri dell'istat ci mostrano non solo che gli ordinativi anche interni stanno crescendo ormai da alcuni mesi ma che stanno crescendo in particolare quelli per i beni di investimento e questa è un'informazione molto interessante perché perché sappiamo anche da altre fonti che molte imprese che stanno ripartendo dopo anni di mancati investimenti hanno bisogno di fare un forte investimento per rinnovare gli impianti e poiché la sicurezza sul lavoro passa non dal fatto che ti metti due caschette invece che uno ma dal fatto sempre di più che tu hai degli impianti delle macchine che sono disegnate all'avanguardia nella tutela della sicurezza del lavoratore ecco il momento cruciale cioè nel momento in cui le imprese si vedono costrette a investire per rinnovare gli impianti ecco che questo strumento consente alle imprese non solo di finanziare gli investimenti ma di finanziarli orientati alla sicurezza cioè di nuovo fare maggiore produttività e quindi maggiore redditività cogliendo allo stesso tempo l'opportunità di migliorare la sicurezza dei lavoratori da questo punto di vista direi che la tempistica è fondamentale ma anche come dicevo lo spirito e quindi speriamo che le associazioni di categoria non solo quelle imprenditoriali ma anche quelle sindacali facciano arrivare il più possibile questo messaggio alle tante piccole imprese alle tante imprese che sono potenzialmente interessate a questo strumento e quindi una collaborazione fatta non solo di uno spot bellissimo molto divertente tra l'altro appunto con gli omini Lego che danno questo senso della costruzione complessiva delle condizioni di sicurezza e di salute di una impresa che non è fatta soltanto di un pezzo ma è fatta di vari pezzi ma aiutino proprio a cogliere questa opportunità che come vedete è fatta di molti puzzle in molti pezzi del puzzle concludo ribadendo quello che il presidente ha detto pochi minuti fa la sicurezza è un fattore di competitività non è un costo parliamo spesso dell'importanza del capitale umano che rappresenta secondo le stime un valore che è pari a sette volte se non di più il valore del capitale fisico cioè dei macchinari o degli impianti il capitale umano passa naturalmente attraverso le persone quindi la tutela delle persone è un modo per tutelare la più grande ricchezza che una impresa e un paese può avere in questo senso speriamo e contiamo sul fatto che questa cultura sia sempre più diffusa sia sempre più condivisa proprio perché il nostro paese ha tutte le possibilità di ripartire e ripartire beneficiando di un salto avere avuto cinque anni di crisi consente appunto alle imprese che vogliono ripartire obbliga alle imprese che vogliono ripartire a un'innovazione tecnologica forte vogliamo che questa innovazione abbia tutti gli strumenti a disposizione in particolare orientati anche alla sicurezza vorrei anche ricordare e qui concludo che tra le attività che sono state svolte dall'Inail in questi mesi c'è stata la messa a disposizione dei dati un patrimonio straordinario per valutare anche l'impatto delle politiche e quindi al di là degli stereotipi sono convinto che attraverso quei dati potremo osservare se questo insieme di misure che abbiamo messo in campo in questi nove mesi veramente faranno aumentare da un lato la sicurezza dall'altro quindi la riduzione degli infortuni e dall'altro ancora il miglioramento delle condizioni di competitività del nostro paese mi fermo qui e ringrazio ancora l'Inail per questo sforzo straordinario che credo meriti il contributo di tutti proprio perché diventi un patrimonio condiviso di tutto il nostro paese di tutto il nostro